Buongiorno, mi chiamo Andrea Schutz, sono liutaio a Cremona, ho la mia attività da più di 20 anni e mi dedico alla costruzione degli strumenti ad arco per violino, viola e violoncello in cui faccio una grande ricerca del suono. In questo momento ho questo strumento a disposizione, che è uno strumento modello Stradivari, fatto a fondo in un pezzo solo, con una stagionatura oltre 40 anni, di cui il lavoro è molto accurato e con legni molto pregiati. Poi una cosa molto bella di stare qua e di rappresentare, di stare comunque alla fiera, a mondo musica, per noi liutaio è confrontarsi con altra gente, confrontarsi con altri liutaio, che aiuta comunque a vedere il tuo lavoro, il tuo posizionamento, dove vengono scambiate tante idee tra di noi. Quindi credo che sia una cosa importante avere un salone come questo e che ospiti più liutaio possibile. Se volete visitare la mia pagina Facebook è Andrea Schutz Valenmaker oppure il sito www.aisvalenshop.net. Grazie.